Tra le tante eccellenze del Piemonte, di Torino in particolare, ostichiamo Edoardo Cavagnino, presidente dei gelati Peppino 1884. Benvenuto Emilia Plaza. Grazie per l'invito. Innanzitutto presentiamo questa storica azienda torinese. Molto volentieri. È una bella storia da raccontare anche perché è un'eccellenza italiana che è sempre rimasta italiana e che da 131 anni ininterrottamente produce solo gelato di altissima qualità. Questa nostra longevità ci porta ad essere il più antico produttore di gelati a livello europeo, in attività, in interrotta, e tra i più antichi nel mondo. Quindi è una nicchia, è una storia che non si conosce ancora tantissimo, però quando la raccontiamo siamo molto orgogliosi come italiani e come torinesi. Come state vivendo questo nono congresso mondiale delle camere di commercio? Molto bene. Noi siamo qui non come singola azienda, ma facciamo parte di una rete di imprese che si chiama Exclusive Brand Torino. Siamo 15 colleghi e negli anni diventati anche amici. Abbiamo fondato questa rete nel 2011 per raggruppare sotto un unico cappello quelle che noi riteniamo essere le aziende più rappresentative per storia, per eccellenza, per qualità, ognuno del proprio settore. Quindi 15 aziende sono 7-8 settori diversi, dal tessere all'alimentare alla gioielleria, tutti insieme con l'idea banale, ma sempre un evergreen che l'unione faccia la forza, soprattutto quando si tratta di andarsi ad affacciare su mercati esteri. Quindi la nostra rete è molto orientata verso l'internazionalizzazione, verso nuovi mercati, sia mercati emergenti che mercati consolidati. Tra tutti quanti insieme serviamo qualcosa come 150 paesi, quindi abbiamo una copertura quasi totale. Quindi la possibilità di unire le forze, i contatti e tutto quanto ci permette di portarci in giro uno con l'altro, quindi di trascinarci. Questo è il primo evento che facciamo tutti insieme a casa, a Torino. Questa era un'occasione ovviamente imperdibile, irripetibile. La prima volta che il congresso Mondiale della Camera di Commercio in Italia, 1200 delegati, più di 100 paesi, insomma, non potevamo non essere qua ad accoglierli. Quindi abbiamo allestito quest'area lounge relax dove parliamo dei nostri prodotti, li facciamo vedere, toccare, mangiare anche nel nostro caso e insomma cerchiamo di accogliere al meglio, di fare un po' di anfitrioni della città di Torino. Per quanto è importante per Torino per fare un evento come questo? Per Torino e per l'Italia? Per l'Italia. Per l'Italia è assolutamente molto importante perché questo anno abbiamo anche l'Expo e abbiamo molti altri cose. In Torino abbiamo l'Oli Shroud, abbiamo molti eventi in Italia, e in Torino o Milano, che è molto, molto vicino, è assolutamente la cosa più importante per noi. Dopo l'Olimpico in 2006, la nostra città è crescita molto bene, è ancora più conosciuta da altri paesi. E possiamo vedere, possiamo toccare, vediamo il turismo in Torino e anche sempre più. Vediamo investimenti forni qui nella nostra città, quindi è molto importante per noi e siamo molto orgogliosi di essere qui oggi e di benvenire tutte le delegazioni dei 100 paesi. Perché hai deciso di essere parte di questo congresso? Questo congresso? Sì, di supportare questo congresso. Perché noi, come un network, un network exclusivo di Torino, siamo 15 entripsi, e vogliamo venire con le migliori cose che puoi trovare nella nostra città, tutti i giovani che abbiamo in questi giorni. Quindi, cerchiamo di lasciare che i nostri vini, i nostri jewelli, i nostri iscritti, ovviamente. Sì. Io invito a tutti, inizio da 3 p.m., ad avere un pinguino, che è il primo gelato su un stick, inventato in Italia, inventato in Torino e da Peppino, nel 1939. Chocolata e crema? Questo. Questo. Chocolata e crema. Questo. E lo sempliamo, inizio da 3 p.m. Creme o milano? Creme con milano. E gli uomini e il cibo. E poi posso dirvi tutti gli altri ingredienti, se vuoi. Ok, grazie molto, grazie. Grazie a voi. E buon anno congresso mondiale di Camera di Commercio. A presto, e vi al Pinguino. Anche a voi. Grazie.